Giovedì 20 aprile 2017, Azzos per lavoro e soldi, segno favorito di oggi. Beh, per il lavoro e i soldi devo dire che l'acquario in questa giornata può guadagnare molto, sotto tutti i punti di vista. L'amore? L'amore è la bilancia, perché la bilancia si libera dall'opposizione del sole, la luna nella posizione migliore anche per una nuova conquista. Segno del giorno? Il toro, nonostante questa luna negativa, però quando il sole entra in un segno dobbiamo assolutamente metterlo in cima alla nostra personalissima classifica, perché chiaramente il sole significa vita. E quando c'è vita, insomma... C'è speranza. C'è tutto. Finché c'è vita c'è speranza, ma c'è tutto, quindi c'è l'entusiasmo di affrontare qualsiasi problema. Amici è tutto per oggi, ci ritroviamo domani se vorrete, nel frattempo www.cartomantieuropei.com per conoscerci meglio e un pochino più da vicino. A domani! Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus